Sta proseguendo il percorso di cura e migliorano le condizioni di salute del neonato di 5 mesi se viziato dal papà anche durante il suo ricovero in pediatria a Padova. Dall'altro ieri il bimbo respira da solo, senza più l'ausilio della maschera d'ossigeno che gli copriva il visino, ma gli ha permesso di superare la fase più critica. Il piccolo non è più in terapia intensiva e si iniziano a vedere i primi segnali di ripresa nel reparto di terapia semi-intensiva. Il percorso terapeutico sta proseguendo secondo quel programma che i clinici hanno impostato e che finalmente sta cominciando a dare dei buoni risultati. Stiamo sempre parlando di una situazione molto delicata, molto particolare, di cui stiamo notando un'evoluzione in senso positivo, ma piccoli passi ogni giorno. La speranza è che le ferite gravissime infritegli dal padre, 22enne Sinti di Camisano Vicentino, non lasciano conseguenze permanenti nel bambino. Dopo la dimissione, il piccolo verrà trasferito nel centro per la diagnostica del bambino maltrattato.